ragazzi buonasera e benvenuti in questo mio nuovo filmato dopo tanto tempo sono stato male e mi auguro che voi siate tutti bene ecco oggi ci dovrebbe essere la conferma per l'ennesima volta dello scudetto da Juve facendo i debiti scongiuri e dopo di che si passerà alla Champions League questa Champions League fatta come mini torneo speriamo di arrivarci nelle condizioni migliori soprattutto speriamo di superare prima il Lione e poi di andare in Portogallo caso strano dove da dove è originario Ronaldo e speriamo di far bene ecco tutto questo mentre si vocifera di un eventuale allontanamento di Sarri nel caso in cui fallisse la Champions ecco oggi è uscita fuori la voce che il presidente Andrea Agnelli vorrebbe sulla sua panchina il tecnico spagnolo a questo punto mi avrebbe da dire a che è servito Sarri anche perché adesso che iniziano a vedersi beh qualche schema del tecnico toscano mi domando e dico a che è servito un anno di Sarri datemi i vostri commenti e ditemi la vostra grazie